12esima edizione del miti in città di Recanati per ricordare Nicola Tubaldi al quale è intitolato lo stadio Recanatese. Vero è che tra giovedì e domenica gli atleti marchigiani hanno avuto tre appuntamenti agonistici, ma ad eccezione di quello di Ancona abbiamo visto una scarsa presenza dei nostri, sia ad Osimo che soprattutto a Recanati. Più extra-regionali che marchigiani, quindi, a primeggiare a Recanati. Nei 110 ad ostacoli al cubano Yassel Lisme per i colori dell'Atletica Frenza 85 ad imporsi con il tempo di 14.34 davanti alla Vire Fermano Giovanni Mantovani in 14.36 che precedeva il compagno di squadra il Recanatese Andrea Cocchi 14.52 il suo tempo. Sui 100 metri è Gerard Coben, 23 anni, del Borghina Faso con 10.64 in finale ma 10.48 in batteria che precedeva Mario Brigida dell'Olympus San Marino 10.60, Alessandro Berdini 10.69 e David Astuti, atletica Recanati 11.02, tempi questi della batteria, e Vito Caiolo di Molfetta in 11.04. Successo nei 400 del sudanese Howard El Karim Maki, atleta del 92 in 47.49. Secondo la Vire Fiorenzo Moscatelli in 48.59 e terzo Luca Aragonici dell'Atletica Gran Sasso in 49.37. Buona prova nel lungo del puliziotto Alessio Guarini con 7.60 che fa meglio di 2 centimetri degli assoluti di Torino. Ancora all'Africa sugli scudi nelle prove dei metri 1.500. Per il settore maschile si impone Chonci Master, atleta del Malawi, in 3.54 e 56, su Andrea Gargamelli della Stamura, 3.55 e 54, e terzo Mauro Marcelletti dell'Asa, 3.56 e 98. Tra le donne, vittoria delle diciottenne cheniana, Veronica Kopskay, davanti all'azzurra della fanfulla, Lodigiana, Tauria Samiri e terza l'allieva Elisa Copponi, 4.27.90, 4.37.09, 4.45.37, i tempi delle prime tre. I 100 femminili vanno alla fermana Francesca Ramini, in 12.22, che fa meglio della senegalese Aberre Inichisia, molto temuta in partenza per la imponente struttura fisica. Discreta anche la prova dei 400, femminili, con vittoria di Stefania Dell'Asta, del Cuspavia, in 58.74. Da segnalare qui le prove delle due paternesi, Fabia e Lucia, scese per la prima volta sotto il minuto, 59.78 e 59.91.